Il ministro Nordio, un mese prima che venisse nominato ministro, ha detto che le intercettazioni costano troppo. Alcuni suoi colleghi di partito gli hanno detto che non è nel programma di governo, quindi non parlare. Ma dopo che è stato nominato ministro, continuava a dire che costavano troppo, il 15 di dicembre dello stesso anno invia a tutte le procure d'Italia il nuovo listino prezzi. Era un listino prezzi che ho fatto due anni prima a Catanzaro, che poi ha utilizzato la procura di Napoli, la procura di Salerno, la procura di Milano, altre procure. Quindi io già mi trovavo in linea. Torna in Parlamento a gennaio e dice che le intercettazioni costano troppo. Ma scusa, ma se tu il 15 di dicembre hai provato un listino, ora mi dici a gennaio. Perché l'hai fatto? Non l'ho fermato. A gennaio hai firmato e costano troppo. Allora parliamo di costi. Per intercettare questo telefono il costo è di tre euro al giorno, cioè due caffè. Poi il costo totale dalla procura di Siracusa a quella di Aosta è 170 milioni di euro. Ogni anno spendiamo ad esempio a Napoli 5 milioni e mezzo per le intercettazioni, abbiamo acquisito beni per 280 milioni di euro. In Italia la prima mafia che ha usato Facebook è stata la Camorra, poi anche l'Andrangheta e la Pianigio e Tauro. Ma questo poi quando i giovani si sono spostati su TikTok, le mafie si sono spostate su TikTok. E allora perché? Perché i giovani sono la fascia sociale che ha meno soldi ma che consuma di più. E quindi come le aziende si spostano, fanno l'obbligità soprattutto sui giovani e le mafie inseguono i giovani. Soprattutto giovani non strutturati, di famiglie marginate, magari i genitori sono in carcere, quindi sono ragazzi che crescono sulla strada e allora questi giovani sono facilmente preda nel sogno di diventare ricchi e potenti come loro. L'abuso d'ufficio è un favore ai raccomandati, è un favore ai raccomandati. E allora parliamo di numeri perché la giustificazione per cui bisogna abolire l'abuso d'ufficio è che sono poche condanne, cioè 4.000. Poi si dice ma guardate che il 95% degli indagati viene assolto, il 95%. È fuorviante questa affermazione perché non è così. E vi spiego perché non è così. Allora noi abbiamo un cittadino, l'obbligatorietà dell'azione penale, un cittadino denuncia in modo circostanziato il sindaco di Parma e allora lo presenta in procura il procuratore per poter sapere, capire se quella denuncia circostanziata è vera o meno, devi scrivere il fascicolo a notizie di reato, fare una delega alla guardia di finanza, la guardia di finanza fa un'indagine che può durare due o tre mesi. Poi viene la guardia di finanza dei posti informativi e dice guardi procuratore non c'è nulla, non è vero, il sindaco non c'entra nulla, sono tutte cose inventate. Quindi io ho iscritto il sindaco, il sindaco non sa nulla di questa indagine, non l'ho disturbato, non l'emmeno interrogato e io procuratore della Repubblica chiedo direttamente al giudice l'archiviazione e allora non si può dire che è stato assolto. Assolvere vuol dire che si è fatto un processo in udienza, si è andato davanti al giugio per fare il processo nei contraddittori delle parti con l'avvocato, gli avvocati, con l'imputato, questo vuol dire assolto e poi c'è una sentenza, un dispositivo di sentenza. In questo caso non c'è stato un processo ma già nella fase di indagine preliminari c'è stata un'archiviazione. Allora non è corretto dire il 95% delle persone sono state assolte.